Seguimi bene Le urla della gente si vede la carrozza reale fuggire via Beh, per capire cos'è successo bisogna aspettare l'uscita dei primi giornali Perché Umberto I di Savoia è stato ucciso Attento, l'assassino ha un nome Sì, perché un carabiniere lo ha acciuffato subito dopo gli spari Si chiama Gaetano Bresci È noto alle forze dell'ordine perché frequenta gli anarchici sin da quando è poco più che un ragazzino Ha 32 anni, è di Prato e da anni vive negli Stati Uniti Dove non se la passa neanche tanto male Infatti è ben vestito ed ha un aspetto curato per i tenori di vita dell'epoca Ma perché devi chiederti uno che abita in America, nel New Jersey Che ha una figlia piccola, un buon lavoro Decide di navigare per 7000 chilometri per venire ad uccidere il re Perché è mosso da un forte, fortissimo spirito di vendetta Bresci, dall'America, è uno che i giornali li legge Anzi, li divora E due anni prima ha letto che a Milano il generale Bava Beccaris Ha preso a cannonate dei poveracci che manifestavano per la fame Facendo una vera e propria strage Attento, ora uno che fa saltare in area degli innocenti dovrebbe finire in galera E invece no Bava Beccaris è finito in Senato Con una bella medaglia sul petto datagli proprio da Umberto I in persona Con tanto di complimenti Questo, Gaetano Bresci, non poteva perdonarglielo E non gliel'ha perdonato Bresci non viene giustiziato perché la pena di morte è stata abolita proprio da Umberto I Ma portato in galera muore lo stesso Come? Dicono Suicidio Hai capito quello che ti ho detto? Beh, se non hai capito, ripassa da qui Ripassa da noi